American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Jack Russell, Westy, Scottish Yorkshire Terrier, gruppo 6 nel pre-ring, il giudice Alberto Cugillato. Allora, vediamo un po' i Terrier che stanno facendo il loro giro. American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Jack Russell, Westy, Scottish Yorkshire Terrier. Allora, dicono che porta fortuna. Terzo posto, Westy. Alla secondo posto, Staffordshire Bull Terrier, vince Jack Russell. Allora, vediamo un po' i Terrier. Allora, vediamo un po' i Terrier.